Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora questo è un video giveaway offerto da Roberto System. Prima di parlarvi dei premi e delle regole volevo spendere comunque due parole su Marilena. Allora, forse non è il video adatto per cui parlare di Marilena, però è il primo video che giro dopo quello che è successo. Allora, tengo a precisare che io non conoscevo Marilena, però ci sono passata dal suo canale tempo fa e sinceramente mi dispiace tantissimo, quando ho saputo dell'accaduto veramente mi è dispiaciuto tantissimo e nulla, io voglio soltanto dire una cosa, a parte al dire che sono molto vicina ai suoi familiari. Non è facile fare un discorso del genere, però volevo dire anche che secondo me e secondo anche molte di voi, lei non avrebbe mai voluto il silenzio su YouTube, perché era una ragazza molto solare, molto forte, quindi non credo avrebbe mai voluto vedere una pausa di una settimana su YouTube, perché altrimenti non si sarebbe divertita e non si divertirebbe da lassù. quindi nulla, ecco, ognuno ha il modo di esprimere il proprio dolore, le ragazze che la seguivano in modo diverso. Io sono convinta che lì da lassù ci guarda e niente, ed è contenta di vedere di vedere video delle persone a cui era iscritta e delle persone che comunque la seguivano. concludo, perché non riesco a fare questi tipi di discorsi, concludo col dire che sicuramente continueremo a fare video, però magari avendo un po' più di tatto nel fare video, quindi un grande bacione Marilena. Allora ragazze, per quanto riguarda il giveaway invece, le regole sono essere iscritte al canale di Roberto System, vi lascio il link qui e nell'info box, poi seconda regola, lasciare un solo commento a testa, uno solo, e nel commento dovete scrivermi che tipo di capello avete, quindi non dovrà essere un commento ciao, random scegli me, perché verrà assolutamente rimosso. Non dovrete lasciare commenti nel mio canale, quindi dove leggete, dove c'è tutto, dove ci sono i video, no, nella pagina, nella pagina, quindi non sul canale. Poi, quindi essere iscritte al canale di Roberto System, lasciare un solo commento, poi mettere questo video fra i preferiti, perché è importante che questo video vada tra i preferiti. Terza, quarta regola, comunque vi lascio tutto nell'info box, i premi. Allora, per quanto riguarda i premi, Roberto ha deciso che appunto la prima estratta, quindi io farò il video corrando, farò il video e l'eserzione verrà fatta corrando. La prima estratta potrà scegliere tre premi, quindi tre prodotti sul sito Pianeta Prodotti, comunque qui verrà contattata da me o da Roberto System e potete scegliere insieme i prodotti, il prodotto che magari si addice di più al suo tipo di capello. Per la seconda vincitrice, un solo prodotto. Quindi ragazze, io spero che il giveaway offerto da Roberto System vi piaccia, vi mando un in bocca al lupo a tutte. Il concorso barra giveaway parte oggi e termina il 21. E niente, vi mando un bacione al prossimo video. Ciao ragazze!